Fototeca Marco Pesaresi e Fiera di Santa Lucia, sono due momenti importanti che arrivano nello stesso periodo per Savignano sul Rubicolo. Sì, oggi siamo qui per coronare un percorso, oggi è un po' in qualche modo la cima coppi del percorso di Savignano, la città della fotografia. Abbiamo, grazie alla Perazzini, a Isa, la mamma, avuto in dono l'archivio di Marco, Savignano, la città della fotografia, un brand che abbiamo lanciato anni fa e che oggi si concretizza. La Fototeca sarà nel 2024 inaugurata nello stabile qui a fianco dove oggi c'è la biblioteca dei ragazzi e oggi abbiamo scoperto il vincitore del concorso per il logo. Per noi è un percorso, è un asset culturale importantissimo perché la fotografia è da 31 anni il tratto identitario della cultura sevignanese, per cui andiamo avanti così e completiamo il percorso nel 2024. Per quanto riguarda la fiera, purtroppo il tempo non è clemente ma abbiamo un sacco di cose interessanti dai fabbri a mostre, alle mostre toccantissime del Papa Giovanni XXIII proprio qui a fianco, per cui un giro, se proprio non piove di rotto, fatelo.